Se hai riscontrato problemi con il ctfmon.exe, l'errore che ti esce quando avvii windows 10 o windows 11, è possibile risolvere questo problema su recitit. Andiamo direttamente su recitit. In descrizione ti ho lasciato pure vari comandi da inserire nel programma editor del registro di sistema. Fai e segui come amministratore. In descrizione ti ho lasciato così il percorso file per entrare direttamente in queste cartelle. Quindi in questo caso entra direttamente la cartella hk current user software. Scendi fino a giù fino a trovare la cartella microsoft. Scendi fino a giù fino a trovare la cartella windows current version. Scendi fino a giù fino a trovare la cartella run. Una volta entrati nella cartella run, eccola qua, con tutti i servizi, nuovo. Valore, stringa. Vai a scriverci tfmon. Una volta fatto, ci clicchiamo sopra. Dati, valore. Come ho detto in descrizione ti ho lasciato alcuni comandi da inserire. Direttamente che si collega alla cartella system32 di windows. Dati, valore, fai ok. Una volta fatto, abbiamo inserito più di qua. E riavvia il sistema. Se hai altri problemi riguardo all'errore ctfmon fammelo sapere sotto al video. Commenta. Iscriviti, lascia like. E grazie per questa visione. Ciao. Ciao. grazie a tutti